fuori tg buongiorno e benvenuti oggi vi domando le nuove tecnologie migliorano la nostra vita sullo smartphone tu hai l'app tu fai le tue credenziali accedi e poi fare bonifici giro conti qualsiasi tipo di operazione quindi è molto comodo per che cosa lo usa ma normali transazioni bonifici eccetera quindi in banca ci va più un po che niente col telefono tele va telebanca come si trova bene comodo specialmente per i bonifici per sapere il saldo non gli ho dispiacere che non c'è più contatto più con le persone un rapporto con le persone con i banchieri e con i cassieri quindi diventa una cosa un po' antipalia perché se c'è qualcosa che non funziona con chi ti vai rivolgi Sì oggi parliamo di banche di banche online anzi ne approfitto subito per dirvi che banca online è il nostro hashtag per intervenire in diretta live su twitter ma diciamo parliamo più ampiamente per quanto possibile della ristrutturazione delle banche perché è chiaro che il fatto che tutti noi facciamo la maggior parte delle operazioni attraverso internet anche attraverso i nostri smartphone vuol dire qualcosa in termini di modo di lavorare della banca di posti di lavoro vi presento subito i nostri ospiti di oggi oggi sono tutti e due qua in studio insieme a me Lando Maria Sileoni buongiorno benvenuto a fuori tg segretario generale del sindacato fabi federazione autonoma bancari italiani e accanto a lui è saluto Paolo Capaccioni di KPMG buongiorno benvenuto a fuori tg voi fate invece consulenza al credito e fate anche degli studi a margine quindi avete fatto vi abbiamo invitato perché avete fatto proprio uno studio su come sta cambiando con la digitalizzazione sulla banca digitale esatto la banca e insomma ne parleremo adesso però cominciamo subito con il nostro primo servizio filmato di Ensemira Festa un servizio molto utile molto comodo io mi trovo sinceramente molto bene se uno sa utilizzare internet si sa orientare online la banca online va benissimo strettamente necessaria per mille motivi per non perdere tempo a fare code e quindi fare operazioni sono tranquillamente a casa la banca digitale piace pure molto più di 16 milioni di cittadini usano l'home banking due disposizioni su tre vengono fatte online e non solo da pc ma anche da telefonino il cosiddetto mobile banking un fenomeno in forte crescita siamo arrivati a 16 milioni di clienti che usano il pc stiamo parlando di un più 9 per cento rispetto all'anno precedente siamo arrivati a quasi 7 milioni che usano il mobile lo smartphone il tablet e stiamo parlando di un più 15 per cento anche perché le banche per attirare i clienti cercano di offrire servizi su misura le banche fanno più on banking per diverse tipologie di clienti cioè più portali web le applicazioni sono diverse in funzione di quello che serve al cliente la media di un campione di banche era intorno ai 12 diverse app messe a disposizione dalla banca per i propri clienti basta andare su un app store per scaricare programmi che non ci saremmo mai sognati sono servizi per prenotare il denaro via app al banco ma ci sono dei servizi con le app che naturalmente aiutano a fare pagamenti veloci pagamenti mobili e quindi in cui si può ottenere il proprio bolsellino elettronico nella nella app ci sono servizi di supporto alle piccole e medie imprese per gestire anche i propri clienti ci sono appunto app che permettono di fare i pagamenti con le carte anche per i negozianti quindi invece di avere il la macchinetta che fa la gestione delle carte c'è il cellulare che ha la app che permette di fare il pagamento al cliente che viene nel negozio nove banche su dieci poi sono attive sui social network facebook twitter youtube è un punto di aggregazione in cui il cliente può chiedere informazioni alla banca e la banca dà informazioni pubblicando post dando risposte ai singoli allora questo mi sembra un punto importante per i nostri telespettatori a giudicare anche da quello che ci scrivono su twitter guardate qua del monola dice se ci sono problemi è difficilissimo comunicare con un operatore che forse neanche c'è provare per chiedere capaccioni voi avete fatto una ricerca e questo aspetto nella vostra ricerca è ben evidenziato mi pare sì devo dire che rispecchia anche quella che è un'attitudine in questo momento nella popolazione italiana più di altre popolazioni nell'utilizzo dei social network che hanno una grandissima comodità lo posso fare mentre sono in autobus o mentre sto andando al lavoro non devo per forza rimanere attaccato al telefono e posso chiedere delle informazioni in più la banca riesce anche a personalizzare la risposta nella social network non è solo facebook o linkedin è anche la chat con cui riesco a dialogare con la persona dall'altra parte tra l'altro in chat rispondono per esempio anche quelli che leggono le auto cioè altre piattaforme no rispondono in chat se si hanno dei dubbi al momento in cui si sta proprio lì per pagare la risposta è quasi immediata questione di secondi e anche la soluzione il problema non so se avete mai provato anche mondi tipo amazon piuttosto che ikea hanno delle chat che rispondono ai quesiti e in pochi secondi ridano questo diciamo che pone dei problemi anche per i lavoratori si leoni non quelli delle banche ma anche quelli che devono stare in chat un certo numero di ore immagino anche se sconfiniremmo su un altro tema ma un accenno no no un accenno io la faccio molto volentieri intanto i social network l'utilizzo dei social network è molto limitato è pari al 3% quindi parliamo di poco diciamo pochissimo e questo spiega anche perché i nostri si lamentano esatto poi i dati quelli fondamentali sono che sono stati riportati giustamente dal servizio che il 55% quindi 16 milioni di persone utilizzano il web per operare con la propria banca tenga presente che nel 2015 la percentuale si attestava intorno al 46% quindi c'è un grande aumento il secondo aspetto fondamentale questo glielo dico per il pubblico che in media ogni cliente si rega presso la propria filiale 13 volte all'anno contro le 16 del 2010 e le 18 del 2008 ora dove sta la differenza la differenza è che il web viene poco utilizzato nei piccoli centri quindi nei piccoli centri dove c'è il contatto con l'operatore di sportello con il direttore il web non viene quasi mai utilizzato nei grandi centri comunque c'è un grande aumento allora mi sembra di capire che qua manca il rapporto personale Capaccioni anche dalla vostra inchiesta è uscito fuori questo dato sì nel senso che l'88% dei clienti bancarizzati comunque utilizza anche la filiale il punto è che la utilizza in modo sporadico è un fatto quasi più psicologico che fisico so che c'è quindi esiste se c'è un problema so dove andare altrimenti devo andare in chat adesso se c'è un problema altrimenti vado in chat ma la quasi totalità delle transazioni le faccio online abbiamo un altro tweet lo vorrei vedere prima del prossimo servizio filmato perché penso che sia dello stesso tenore ecco qua allora Antonella dice come si può ragionevolmente pensare che mia mamma mio padre settantennio la nonna di mia moglie riescano a gestire un conto online posso risponderle? prego c'è una differenza politica sostanziale non è soltanto una questione di abitudine le operazioni tra virgolette normali il prelevamento e il versamento possono tranquillamente essere utilizzate via web il problema principale è quando il cliente deve chiedere l'affidamento, deve chiedere il mutuo, deve chiedere la consulenza allora lì non c'è web che tiene e va direttamente in filiale esatto però poi come ci va lo vediamo dopo il prossimo servizio Ense mira festa di nuovo le banche fanno i conti con la crisi e in tutta Europa riducono il personale oggi i bancari sono 328.000, entro due anni dovrebbero diminuire di almeno 20.000 Unicredit, il più grande gruppo bancario italiano, taglierà 18.200 posti di lavoro in tutta Europa è cronaca di queste settimane, le banche sono in ristrutturazione in Italia come nel resto d'Europa, mentre chiudono centinaia di sportelli sulla spinta del loan banking non ci si rega quasi più in banca, gli assegni sono radicalmente ridotti negli ultimi anni perché si fa tutto in via telematica, quindi questo significa che le banche erogano i loro servizi in modo diverso dal passato e devono quindi ridimensionare la struttura dei costi in funzione di questa rivoluzione digitale Una cura dimagrante da 50.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni così il governo promette aiuti e studia nella legge di bilancio un finanziamento da 100 milioni di euro per il fondo di categoria che accompagna l'uscita dei bancari A imporre la ristrutturazione sono sì le nuove tecnologie ma anche tutti i soldi che le banche hanno prestato e che non riescono a recuperare le cosiddette sofferenze Questo è nella stragrande maggioranza di casi, in misura larghissima dovuto alla crisi generale del sistema economico non è dovuto solo e non tanto alla malagestio di alcuni specifici banchieri o dirigenti di banca che pure c'è stata e va perseguita, ma non è la causa fondamentale Dunque anche le banche scontano la crisi e per recuperare reddittività devono cambiare pelle D'altra parte, dicono gli esperti, non hanno ricevuto aiuto per queste sofferenze per questo non performing loan, come è accaduto in Germania o in altri paesi europei È chiaro che quegli aiuti pubblici hanno consentito a quelle banche anche di liberarsi prima dei non performing loan Oggi in Italia le banche lo stanno facendo in autonomia in parte con alcune forme di sostegno pienamente legittime già concordate con l'Europa, come la famosa garanzia che lo Stato può rilasciare a condizione di mercato, quindi una garanzia onerosa e quindi si sta riattivando anche in Italia questo mercato di non performing loan che consentirà alle banche di ridurre queste credite in sofferenza che loro hanno nel loro attimo Gioco forza, gli istituti di credito incominciano a diversificare e offrire nuovi servizi, come quello di agenzia immobiliare e la banca come la conosciamo oggi non ci sarà più Arrivano ancora i nostri su Twitter allora Simone dice Un banking è fondamentale, lo uso più da desktop che da mobile però le banche, molto smart, questo Simone lo devono aggiornare ai sistemi Bancomat Capaccioni? È un dato che risulta anche dalla nostra ricerca solamente il 10% fa operatività esclusivamente da mobile mobile però ha un accesso magari continuo anche più volte al giorno perché magari vada a controllare il saldo diventa quasi un elemento da maniaco l'on banking invece su web dal PC è quello prevalentemente usato per tutti quelli che usano operare attraverso il web Allora però una cosa è contenere le perdite una cosa è ripensare il modello possiamo tentare di tracciare uno scenario intanto quanti esuberi voi prevedete da qui a 10 anni? Guardi sono stati fatti numeri a Vambera nel senso che per avere un'idea chiara sugli esuberi dobbiamo vedere fondamentalmente due aspetti il primo aspetto quando le banche popolari si trasformeranno in S.P.A. se si fonderanno fra loro in Italia o se saranno oggetto di scalata da parte magari dei fondi stranieri questo è il primo punto questa trasformazione deve avvenire entro il 31-12 di questo anno quindi noi contiamo da gennaio in poi di capire perfettamente quale sarà la nuova cartina geografica del settore bancario appunto l'altro problema fondamentale non sono gli esuberi il grande problema fondamentale che noi più volte come organizzazione abbiamo esposto è questo l'80% dei 190 miliardi di sofferenze bancari hanno un nome e un cognome sono state decise nelle autonomie dei direttori generali degli amministratori delegati dei consigli di gestione delle banche dei consigli di amministrazione e di questi 190 miliardi di sofferenze bancari il 70% sta tutto sistemato ubicato al nord laddove è presente la direzione generale del grande gruppo bancario è chiaro, questo è il loro punto di vista allora io vorrei sapere però in questa ristrutturazione Capaccioni è prevista anche una figura eticamente responsabile nei confronti del risparmiatore che va a comprare un prodotto finanziario? diciamo che il modello che sembra prevalere è quello di un'integrazione tra il canale web che indubbiamente semplifica la vita per l'utente dalla parte del cliente è tutto molto più facile per certi versi al netto di elementi generazionali come il tweet di prima in cui oggettivamente una difficoltà della mamma 70enne la si può trovare la figura però di riferimento del personal assistant del personal banker che interagisce in maniera diretta e fisica una persona di cui ci si può affidare Pasquale Martello che cosa ha inventato per la puntata di oggi? abbiamo visto Maria si fa un po' fatica abituarsi a tutta questa tecnologia guarda, signor vigile mio figlio mi ha aperto un conto in una nuova banca devo ritirare la pensione ma non riesco a trovarla mi dia l'indirizzo mi ha detto via web e allora prima che lo trova grazie io ringrazio molti i nostri ospiti per essere intervenuti a questa puntata grazie